ragazzi apro la cassa 7 mila coppie attenzione e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono non so se sono tipo mezzanotte fuori non lo so ma io i video per voi li faccio allora devo far vedere avete già capito dalla intro cosa farò dalla clip iniziale io cinque giorni fa ho fatto spacchettamento 6.000 trofei pubblicata quattro giorni fa perché stavo già pubblicando un altro video che poi non si è caricato proprio e oggi ragazzi come avete visto dall'introduzione che vedo giugno no non è brava andrò ad aprire la cassa 7 mila trofei ragazzi ci siamo arrivati in cinque giorni nerdando giocando e tutti i brawler e tutto guardato per troppo di testellare che ho meno probabilità di trovare un leggendario ma ragazzi ci spero e ragazzi andiamo subito subito ad aprire la mega cassa 7 mila trofei ragazzi attenzione allora cercato di mettere bene la webcam ok dovrebbe funzionare così io vado ragazzi allora tic 12 monete io sto guardando voi ma qui mi dà che sto guardando da un'altra parte le vediamo 28 ho saputo punti energia ma non credo che sta vero leggendario frank è buonissimo posso potenziarlo mortis ragazzi spero nel primo io tutto gas ci vado stecca ma va bene e ragazzi 9 biglietti e 20 è possibile questa cosa scrivetemi nei commenti astag si o astag no e vi saluterò e ragazzi il gesto per ring venuto qua piccola casa ma sempre meglio di niente video e ci vediamo in un prossimo video ciao bel iscrivetevi attivate la campanellina e ora ciao ciao